ciao a tutti e bentrovati su veglie games oggi volevo fare una guida su come fare un titolo per il vostro video prima cosa andate a vedere se questo titolo esiste già quindi aprite una finestra anonima su youtube ovviamente cercate youtube accettate quindi youtube non riconosce che siete proprio voi a cercare questo questo video quindi è meglio fare ricerca anonima perché altrimenti youtube vi suggerisce dei video che ma poi non serve in realtà in questo caso io ho fatto un po di tempo fa un video su una guida di avidemux quindi in questo caso cercheremo come usare avidemux vedete che ve lo propone direttamente lui ok allora ovviamente troverete diversi tutorial su come creare un video su avidemux ok ci dovrebbe essere anche il mio da qualche parte eccolo qua ovviamente dipende dal numero di visualizzazioni dipende da tutta una serie di di condizioni il mio video è stato fatto un mese fa e ha 42 visualizzazioni è molto diverso da un video che magari è stato fatto qualche anno fa è già a sopra 180 250 mila visualizzazioni che però nessuno ha scelto questo titolo anzi come si usa avidemux potevo anche scrivere quello come si usa avidemux vedete già cambia dipende dal tipo di ricerca che una persona fa ok quindi una volta trovato il titolo più adatto al vostro punto video come si usa come usare sono le parole che più frequentemente si inseriscono sul sul browser quindi su youtube e per fare una ricerca di un qualsiasi cosa se una persona ha bisogno di informazioni su come si usa un qualcosa scrive o come si usa o come usare e come vedete anche se il mio video video è recente e ha pochissime visualizzazioni rispetto ad altri inserendo questo titolo vengo visualizzato nelle ricerche di youtube non scrivete soltanto avidemux italiano o cose del genere ho visto dei titoli agghiaccianti in cui non si capisce esattamente cosa succede nel video magari è un bellissimo video ma non viene visualizzato nelle ricerche quindi nessuno lo vedrà mai io spero che questo video vi sia stato utile e ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti